Ah, adesso brutta palla persa da Brozovic, c'è la Noglu, attenzione alla Roma con Pellegrini, metta la rigore, il sinistro va chiuso a Cerbi, ancora Pellegrini, alto di poco sopra la traversa, il destro del capitano della Roma, penso che l'abbia parata Onana, penso che l'abbia parata Onana e stavamo parlando degli rischi di giocare questi palloni qua, ah c'è stata la deviazione di bastoni con la schiena, attenzione, grande palla di Brozovic per Dufris che può metterla in mezzo, è bello! E' bello Dima! 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 Federico! Di Marco! 1-0 per l'Inter, bella palla di Brozo in verticale per Dufris che si butta nello spazio, grossi in orizzontale che attraversa tutta l'area di rigore, non ci arriva Romello davanti a Rui Patricio, ci arriva però sul secondo pallo Dima che col piattone di Mancino la butta sotto la traversa, o meglio, la butta in porta, deviazione sotto la traversa, 1-0 per l'Inter, Federico Di Marco! Tutto buono, parte Pellegrini, tre quarti di destra, arriva il cross in area, colpo di testa di Baniez, alto sopra la traversa, Correa in area di rigore! Ma non puoi! Non tira! Non tira! Cerca Lukaku davanti alla porta e mette la palla a fondo campo, questo era un gol già fatto, Correa entra in area di rigore, da solo sulla sinistra, la palla sul sinistro deve spaccare la porta. Bastoni all'indietro per Onana, che va a cercare Di Marco, libero, attenzione al pressing della Roma, alto, usciamo con Brozovic, linea mediana, Brozovic va a cercare Dima, c'è spazio, c'è spazio per Dima per entrare in area di rigore dalla sinistra, Dima fino in fondo, arriva il cross morbido, e Cristante rischia l'autogol anticipando il proprio portiere, Rui Patricio che si arrabbia, dice l'ho chiamata. Lancio di Bastoni a cercare lo scatto di Romelu, c'è la chiusura di Banez, poi però sbaglia i Banez, Romelu, tutto solo, davanti a Rui Patricio! Go! Grande Romelu! Bravo! Grande Romelu! 2-0 per l'Inter! 2-0 per l'Inter! Sbaglia la difesa della Roma, Lautaro deve solo dare la palla a Lukaku, che la prende al limite, guarda la porta e col sinistro batte Rui Patricio, 2-0 per l'Inter, che ha segnato Mario... Romelu Lukaku! Chi? Non i Banez, ma la segnata di Banez! Banez! Ma io sono contento! Bellanova va verso il centro del campo, chiama palla a Lukaku, servito lì a un metro, Lukaku prova ad andare via Zaleski, ce la fa, poi serve bene Mkhitaryan, viene messo giù Lukaku, palla per Lautaro! Traversa! Mamma mia! Grande destro di Lautaro! Finisce qui! Finisce qui! Roma 0, Inter 2, vittoria fondamentale per la Corsa alla Champions! Bravi ragazzi, bravi, 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 e ora testa, testa mercoledì! Bravi, 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 bravi! 2-0 per noi! Bravi ragazzi!